Ha preso il via la campagna di screening sierologico messa in campo dalla regione toscana. Il test consiste in uno stick su cui viene versata una goccia di sangue e che evidenzia la formazione di anticorpi all'interno del soggetto. In pratica fa capire se il paziente è entrato in contatto con il virus o meno e da quanto tempo. Se il risultato è positivo o dubbio, la fase successiva è comunque quella dell'esecuzione del tampone. Per poter accedere gratuitamente al test è comunque necessario presentare al laboratorio privato la ricetta del medico curante. Le nuove categorie che avranno accesso ai test gratuiti sono gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale, chi lavora negli esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare e chi è addetto al trasporto delle merci. I lavoratori di aziende pubblico, private di smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti. I dipendenti pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico. I dipendenti degli uffici postali, i dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che hanno contatto con i clienti. I lavoratori dei servizi a domicilio. I lavoratori dell'editoria e dell'emittenza televisiva a contatto con il pubblico. Gli edicolanti e librai, gli operatori del trasporto pubblico locale, gli operatori delle imprese o agenzie di onoranze funebri, gli operatori della logistica e le cui attività implica il contatto con il pubblico. Il personale dei consolati, il personale dei porti e degli aeroporti, i lavoratori infine del distretto cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere dunque un caso pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani. Inevitabile che questo screening porterà, nelle prossime settimane, ad un incremento dei tamponi eseguiti e probabilmente ad un'impennata dei casi di positività, andando a ricercare principalmente proprio quei soggetti asintomatici che possono evicolare il virus in maniera incontrollabile. In provincia di Lucca sono questi i laboratori convenzionati, la CAM di Viareggio, l'Ecol Studio di Lucca e il Laboratore Pironi di Camaiore, la LAM di San Vito a Capannoli e la LAM SRL di Lucca.